Berlusconi Non sapere dinanzi alla legge non ha una giustificazione, per i comuni mortali il fatto di non sapere di compiare un reato, non è da considerarsi nemmeno come attenuante. Berlusconi è di fatto un porco che per proprio diletto corrompe moralmente giovani minorenni giunte nel nostro paese con la speranza di avere un'accoglienza di ben altro profilo. Ragazzine minorenni non sono un oggetto sessuale o merce di scambio. Berlusconi sei un porco e la pagherai per questo. La sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca!